Presidente Manzo, il CDA ha provato il bilancio, come si è arrivati a risultati così positivi? Sì, è un percorso straordinario, fatto di 10 anni di grandi sacrifici. La banca apre nel 2009 in piena crisi Lehman Brothers, che vede la città anche reclinata su se stessa, percorre il sentiero del credito cooperativo, fatto naturalmente di sana e prudente gestione, quindi anche di efficienza, ma senza perdere il rapporto con la gente e con l'umanità. Questo ci ha condotto ad avere un utile di bilancio quest'anno notevolmente incrementato rispetto all'anno scorso, oltre 1.221 milioni, incrementiamo il patrimonio, abbiamo un coefficiente di adeguatezza patrimoniale del 40% ai massimi livelli, ma la sana e prudente gestione si realizza attraverso questo nostro livello di sofferenze nette, cioè i clienti che non pagano, che sono ai minimi storici, l'1,31, che per una città come Napoli credo sia una vera grande notizia. Quindi il coefficiente umano è praticamente la ricetta più importante della BCC. Ecco, un po' in controtendenza con la politica aziendale delle altre istituti di credito e anche in controtendenza con la BCE. Noi pensiamo che la sana e prudente gestione, i severissimi parametri di compliance introdotti dalla vigilanza europea vadano temperati con l'umanità, con la centralità dell'uomo, con quello che noi chiamiamo il vero e proprio rating dell'umanità. Parlare con la gente, mettere al centro le stesse persone, dei loro progetti, delle loro ambizioni, dei loro sogni. Questo non significa sostenere il 100% delle iniziative, ma quest'anno ci ha consentito di sostenere giovani, start-up, ne abbiamo finanziate 100, di quasi il 50% innovative, la casa, il diritto alla casa, sostenere tanti laboratori atipici, dipendenti, famiglie per poter acquistare un immobile e soprattutto le piccole e piccolissime imprese. Napoli ha sofferto in questi dieci anni e noi in chiave anticichilcica l'abbiamo sostenuta. I risultati ci danno ragione. Quindi, ecco, lei parla di rating dell'umanità e che alla fine le ha dato ragione dieci anni fa, nessuno ci credeva quando è nata la BCC. Sì, un discorso pieno di diffidenza. Anche il modello del credito cooperativo a Napoli che vi arriva dopo 150 anni è stato visto naturalmente con interesse, ma naturalmente anche con un po' di diffidenza. Possiamo dire che oggi sono triplicati i soci, il patrimonio ogni anno lo incrementiamo a due cifre, i nostri clienti si moltiplicano, ma soprattutto si moltiplica quella cifra che è il prodotto interno cittadino. Il fatto di poter accompagnare all'efficienza un modello di solidarietà e quindi vedere un bambino che può curarsi nella propria città o un giovane poter far sport nella propria città, oppure sostenere la scuola, chi si è allontanato, l'inclusione. Credo che sia un dovere che in questi anni la Banca di Credito Cooperativo di Napoli ha sviluppato a pieno e la città oggi lo riconosce. Un momento difficilissimo per le banche. Lo chiediamo a lei che a questo punto possiamo dire che ha avuto successo e ha avuto successo il suo metodo. A cosa si deve addebitare questa scarsa fiducia nelle banche e di conseguenza una situazione che porta anche alla chiusura di molti istituti di credito anche importanti. Ma si deve addebitare al declivio della sostituzione dell'uomo rispetto agli alogarittimi. Pensare che i computer possano sostituire la mente e l'essere umano secondo me è una follia. L'aspetto quantitativo, l'aspetto informatico, la digitalizzazione sono sicuramente investimenti da realizzare ma sono tutti al servizio dell'uomo, non lo possono sostituire. E noi nel nostro piccolo pensiamo e soprattutto con l'ingresso nel nuovo gruppo bancario cooperativo che ricordo essere il terzo gruppo bancario italiano, il primo a capitale italiano, ci ha dato la forza e il sostegno del grande gruppo utilizzando le leve di una serie di società del nostro gruppo come BCC Factoring, Icrea Banca Impresa, BCC Credito al Consumo che insieme alle nostre risorse hanno fatto sì che tantissimi napoletani dell'area metropolitana, perché ricordo che la BCC di Napoli non opera solo a Napoli ma in tutti i comuni limitrofi, ha visto realizzare tantissime opere che siano di pubblica utilità, che siano imprese private, che siano nel mondo dell'edilizia, nel mondo dell'artigianato e anche nel mondo della solidarietà. Presidente, la BCC ha finanziato dunque 100 start-up. Quali sono i prossimi obiettivi? Abbiamo degli obiettivi sfidanti, vogliamo naturalmente diffondere questo modello in tutta la città, apriremo una serie di filiali, filiali innovative che prevederanno il matching tra la digitalizzazione e l'informatizzazione, quindi l'efficienza col modello umano, anche in provincia, ma soprattutto vogliamo ancora di più investire in un modello di dialogo, fare in modo che le persone trovino la banca non come un avversario, non come una controparte, ma una parte con la quale si può dialogare, si può trovare insieme una soluzione e naturalmente questo si tradurrà in fatturato e questo fatturato che viene realizzato, e questo è l'elemento importante, con una banca con mente e cuore nella nostra città, che raccoglie qui i depositi dei napoletani e li reinveste prestandoli ai napoletani, che selezionati opportunamente danno un livello di efficienza notevolissimo, col più basso livello di sofferenze nette in Italia. Grazie al Presidente Manzo per questa intervista e il prossimo appuntamento è il 18 maggio, quando c'è l'Assemblea dei Socii proprio per approvare definitivamente il bilancio in Assise, bilancio, lo ricordiamo, già approvato dalla CDA della BCC. Arrivederci.